girate meglio fermatevi un attimo perché qua veramente non mi ha finito male il primo che dice ma dove sta la barba colorata gli emetto le mani addosso lo sapete perché? perché l'ho ordinato in coso della L'Oreal 16 euro l'avevo ordinato turchese è una settimana che il Corriere non si è capito che fino a fa era spedizione il giorno dopo quindi io non ci posso fare niente perché la penitenza vera sono arrivati quasi 3.000 3.000 mi piace la penitenza era metà barba e la metà che te lascia ovviamente colorata ah quindi non solo metà barba pure colorata dovrebbe essere vabbè dai è arrivato vabbè una delle prossime penitenze ciao ragazzi per ritrovati a tutti allora nell'esatto momento in cui arriveranno 6.000 mi piace su questo video ci avete assicurato domani un nuovo episodio penitenze comprese dipende tutto da voi oppure vedo pure l'alternativa secondo modo per sbloccare domani una nuova sfida l'obiettivo iscritti che vi ho messo a inizio di questo contenuto dipende tutto da voi lasciami piace in costa niente iscriversi e attivare la campanella vi dà anche il vantaggio di restare sempre aggiornati sui nostri video se lo fate vi arriverà sempre la notifica sul cellulare ogni volta che pubblichiamo qualcosa approfittatene per raggiungere l'obiettivo se siete in quel 45% di utenza che regolarmente segue i nostri contenuti ma ancora non sei iscritto per voi sarà una cosa insignificante ma vi assicuro che per me e Fabio è una cosa molto importante la più importante due canali di calcio un canale extra calcio tutto in descrizione o i canali compariranno qui durante il video mamma mia aspetta prima te fa la prossima penitenza fattibile la potete proporre qui sotto nei commenti chi perde nel prossimo episodio paga la penitenza che riceverà più mi piace fattibili mi raccomando detto questo ti è tu non sei pronto Fabio no che è successo grid builder oppure quelli classici dice e che significa te lo faccio vedere immediatamente però cominciamo con la serie A per andare tranquilli ho capito puoi scegliere le squadre intorno facciamo una per uno facciamo un without steals per il momento vedi com'è carta forbici sasso per chi sceglie la prima vai chi vince la sceglie scelgo io non ci credo non è una cosa fantastica no è la cosa più bella del mondo Roma vabbè oddio vai io qua non so come giocarla però sta cosa ho capito la prima esperienza vai a caso poi si vedrà Inter Milan ma tu ti rendi conto ma è possibile fa degli incroci dove non c'è è possibile fa degli incroci dove non c'è stanno secondo me te li toglie non ti dà la possibilità secondo me dici? eh sì vedi che il frosinone qua non c'è ah no c'è stato scusami scusami non l'avevo visto facciamo con tutte le big Lazio Lazio vai scegliete no famo con tutte le big quello che te pare eh vabbè dai qua o ci mettiamo la Juventus o Napoli o l'Atalanta Napoli o l'Atalanta ma invece mettiamoci oh ma ci stanno tutte le squadre deseriamo che ci sto a pensare mamma mia mi posso rifiutare? no l'abbiamo scelto insieme praticamente allora comincio io io sono il P1 perché ho vinto io no? sì 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 cominci tu eccalla allora mamma mia porca la miseria vabbè dai però adesso guardando tutta la griglia guardando è fattibile sì ma sarà che non c'è gioco da un po' di tempo sto un attimo sfarfallato quello pure io quello poco mi assicuro perché sto a pensare in incrocio inter fiorentina ah vabbè più facile del così con mezza barba vai ok allora se tu parti centrale di certo non puoi andare a centrale pure te no e ovviamente parto esterno coperdo coperdo perdo perdo sto ragionando la mancanza dalla barba da un capo sto ragionando vai ok chiudiamo subito con cagliecon era abbastanza easy in realtà facciamo così va ok tu quindi mi costringi a mettere semplicissimo ah sei andato sul non era proprio semplicissimo cristante vabbè per me lo è quindi adesso cosa fai cosa mi proponi vabbè abbiamo creato uno schema troppo troppo semplice troppo easy troppo troppo semplice vai ok vabbè io vado sempre col mio solito 14 Aaron Winter col mio solito Aaron Winter vabbè serve che metto Napoli Milan Endes and and volete reveal missing players play again e ricomincio io ricomincia poi nel caso in cui uno dei due vince comincia l'altro anche nel metterli cerchiamo di dare un po' di pepe per forza si alziamo un po' il livello parma ci hanno messo il parma perché storicamente è bello bellissimo se tu metti il parma non esagerà no no veramente vediamo la Lazio io ti metto oh ma mamma mia perché poi mentre lo vado a mettere penso pure capito ha dei possibili arrivessa a Roma vai allora dai un'altra squadra è da mettere un'altra forte no una un po' meno di media classifica dai poi al limite se ne sappiamo mamma mia facciamo quale non abbiamo messo prima la Juve la Juventus non l'abbiamo messa ok e di qua indica e di là Parma Roma non lo so girare no se no poi lo saltavo abbiamo creato noi lo saltavo se immagini senti che c'è metto qua dai una aiutami pure tu aiutami aiutami mettici o Napoli o Inter o Milan me non andà troppo stiamo ancora cercando di capire devo ricominciare io devi ricominciare e ok e vabbè e fino a qua me sta benissimo vai io però te frego il centro e ci rimetto ancora con questo Aaron Winter Crespo Crespo e ce ne stanno tanti eh ex De Parma in Lazio Verón Almeida Sensini Nestor Sensini Sensini non gioco pure alla Lazio c'è un attimo te dobbio tanti anni ma vai parecchio prima eh senti a me qua uno veramente era semplicissimo un pochino di vaio mirano in piranici vabbè uno fresco fresco e ringrazia che te l'ha messo nooo e vabbè ho capito se non me lo mettevo me lo facevi rimettere nooo nooo come devi fare Inter Bologna fammi Inter Bologna vediamo cosa sai fare tu lo sai al momento lo sai no in questo momento non ce l'ho in mente ma lo posso trovare un attimo che è il polpettone che ti sta succedendo nooo ho pensato a un giocatore del Bologna che ha giocato per parecchio per un attimo l'ho pensato all'Inter ma non ci ha mai giocato all'Inter ok o ci ha giocato dipende chi è no non te lo dico perché se no poi se io so indeciso e non lo metto chi ha fatto me lo freghi e vinci te so indeciso un ex Bologna domanda ma Midel Midel ha giocato all'Inter ha giocato all'Inter ma come l'ha giocato all'Inter ha giocato prima all'Inter e poi al Bologna qualcosa del genere vai passano gli anni passano l'anni ma qua è pareggio se non ne sai nessuna delle due no vinco io ma devi mettere una perché io posso farla di vista da sopra si ha bo capito che vetti eh Pdero matavorta ho capito matavota eh vabbè ne è pareggio un ex Roma-Bologna è molto interessante molto interessante io lo so io ne so sei e allora o scrivo ma come schiaffa è come prima Antognoli Skorupski Arturo tutti i portieri abbiamo citato vado sì vai però dobbiamo un pochino alzare la sticella allora tu dici Genua dici sì ma attento a quello che fai che cioè famo danno cioè veramente poi non lo sappiamo perché poi il problema è l'opposto che rischiamo di non sapere una big per lato l'abbiamo mettere Torino va bene torna senza pensare sto andasse metti Cagliari no scegli te dai no Cagliari no dai ancora Fiorentina e qua potevo mettere una big e una big ma se se avevo fatto uno schifo ma toccafallo cioè l'abbiamo scelto noi abbiamo scelto noi toccafallo mamma mia peggio che così ragazzi chi quaggiotto quaggiotto fabbio quagliarella senti partimo da da come l'ho chiamato io la prima volta che ho letto un po' becà vado così devi ricordare un ex samdoria e genoa facilissimo eccolo bavoso cioè ci sei andato a mettere il più fresco vergognati tiscito vipera serpente allora allora famo così va vai come devo ricordare Torino e Fiorentina forse ce l'ho MSN ce l'ho ce l'ho io ce l'ho un'altra ce l'avevo è venuto così su due piedi perché stavo brancolando al buio è un altro pareggio dai come ti fa no per allenamento vabbè io ce l'ho ha giocato a parte quello è la terza partita allora facciamo basta questo modello così se non escevo mai abbiamo fatto tre pareggi prima di alzare le difficoltà ammette ancora più difficili proviamo provamole in altra dai provamole in altra allora vado io e facciamo Cagliari tu fai Cagliari te do un consiglio non mette Monza non mette Frosinone non mette Spezia no 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 perché c'è sta ancora Spezia non metto squadre che hanno frequentato per parecchi anni la Serie A che comunque magari andi cantando a memoria ce la facciamo ho fatto una cavolata un po' troppo così un po' esagerato sì però vediamo se riusciamo a sconvolgere gli equilibri della partita no così è un po' troppo ma pure tu però ce la riusciamo a mettere carico da 90 oh mamma oh mamma mia vabbè ma la chiamata muovendo il destro mamma mia ma ce stai io di Corbotto dai tutte piccole io di Corbotto con una piccola conosciuta magari sì che ne so Argeno Arbologna no riusciamo a mettere Borbogna dai mamma mia vai tocca a te ma che abbiamo fatto non mi diende sdru perché ne vedo ok parto da una cosa che sai eh sì comunque mettiamo una nuova regola al superamento della quinta partita in cui siamo un pareggio il primo che fa un punto vince per non portarla troppo alle lunghe che significa il primo che fa un punto quello che ho detto se rimaniamo 0 a 0 la quinta partita il primo che vince una partita ah ok dopo la quinta partita dopo la quinta ma benissimo no 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 c'è ragione io se non mi ricordo male sì sì era uno dei pochi che sapevo Udinese Lecce c'erano parecchi incroci da poter mettere mamma mia che giocatore di Michele david di Michele mamma mia io voto e voglio Cagliari Verona Cagliari Lecce Cagliari Bologna mamma mia ragazzi Cagliari Verona io ti metto quella che so ma ha detto niente perché non sapevi manco quella te la saresti ricordata io non ci penso mai che Musa Barro era dell'Atalanta se proprio ti posso dire tanto qua difficoltà è per entrambi lavadura è vero gioco a Lecce era pure semplice ma vuoi vedi bloccato e devo bloccato Atalanta Lecce ma come si chiama ma non ce la sa puta la sa puta Atalanta Verona allora io ho un nome in mente ce l'ho però 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 non voglio andare di fretta perché non so so sicuro che ha giocato per l'Atalanta non mi ricordo se ha giocato anche con il Verona si sto sudando a freddo perché l'opportunità è ghiotta eh si più grande è facile cioè arrivi a un punto in cui veramente beh perché sto andando un po' in bambola ti dico la verità avevo già pregustato la vittoria con Atalanta Lecce io c'ho quello in mente ma c'ho il dubbio quando c'è un nome in mente non te ne verranno mai in mente è quello il problema capito ho associato quel nome non riesco a pensare altro vedo a te che c'hai il nome in mente io non c'ho manco quello senti io senza sportiello non so perché mi ricordavo che avessi giocato con il Verona e invece no cioè l'opportunità da fa 3 a 2 cioè si va bene il senso da fa 3 ho pensato a due giocatori ma non ci hanno giocato per l'Atalanta non ci hanno giocato per l'Atalanta devo scavare più nel passato secondo me io pure però sai che è veramente difficile poi mi viene in mente la formazione di adesso io pure c'ho sto limite non riesco ad andare indietro non te dà risultati non te li dà non te li dà anzi a maggior ragione è quella da adesso proprio no sparo a caso ci avevo il dubbio su Tamez e quando ci ha giocato con la Rafa? eh sì ci ha giocato fa ci ha giocato ci avevo il dubbio su Tamez no Tamez no no Tamez no no Tamez no 1-0 per me 1-0 sì questa era la quarta vai abbiamo vinto però vai ma è nazionalità non si può fare lo vedi non abbiamo pensato a fare ne countries e ne trophies è vero vai c'è sempre tempo in modo allora no random no se non lo facevano no che random questo è scemo no 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 devi cliccare con due se non lo vuoi due dita così pochi è vero italiani ammazzarci vabbè se giustamente è troppo facile ma mica tanto ma non è detto dipende da che squadra metti nazionalità italiana argentino dai ovviamente solo team non si commette altro che hai messo argentini argentino sono sta a scegliere guardi il furbo ma guarda 97 4 soluzioni solo per quell'angolo ci sono certo arrivato trovis allora ballon d'ora champions league coppa america coppa italia europei capo cannoniere del mondiale dell'italia e dell'italia campione del mondo e capo cannoniere del mondiale si vabbè non esagera ma siamo a fare tutta sta roba ma poi dipende come va l'incrocio che ne so io come dici te magari poi ce lo toglie ma che ne so ma che so ma argentina e brasile mi dicevo campione del mondo o qualcosa del genere dei trofei si infatti stava pensare mettere o champions o italian league top scorer c'ho paura che con champions poi non c'è niente coppa italia pure volendo che è abbastanza difficile la mettiamo champions su io sono squadra posso mettere qua quindi si mettere una una ci stai a mettere una buona che non è facile e cominci te comincio io bravo grazie me l'ho già scordato prego scusi vabbè ma che fare che andiamo proprio soft non dici proprio proprio soft pensare nel leggende scrive e io poi ne faccio uguale dai Hernan Crispo 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 adesso è uno che ha giocato nel Napoli e che ha vinto la champions no mi è venuta a mente subito la squadra ma ci stava già ha vinto la champions non ti aspettavi eh no non lo stavo a capire dove volevi arrivare si si ci sono la champions qua che viene una passeggiata di salute e lo sapevo che andava su carrega mi metti di Maradona allora brasiliano del Parma perdone me allora brasiliano del Parma mi sono venuti in mente due calciatori ma non so l'ho convinto che abbiano giocato per il Parma il supplì Adriano pure intendeva bene Adriano pure infatti lui due mi sono venuti in mente cavolo l'ha vinta la champions ma chi chi l'ha vinta la champions cioè sarà pure non ti piaceva vai cioè tutto questo mi sei riportato contro uno che ha vinto la champions che devo difende uno che ha vinto col Parma uno che ha vinto la champions che ha giocato cioè che ha giocato nel Parma che ha giocato nel Parma devo rifare un attimo mente locale eh qua devi sparare devo rifare mente locale qua devi sparare e basta secondo me no non devo sparare basta che c'era giro un attimo io in realtà due nomi in mente ce li ho io non ce ne ho menta manco uno perché tutti quelli forti del Parma che mi sono venuti in mente la champions non l'hanno vinta o meglio ho due nomi ma ho il dubbio se l'hanno vinta o no perché poi sono calciatori che sono passati per tante squadre tante e dici quell'anno quando poi sono andati in quella squadra l'hanno vinta l'hanno vinta o no ce l'ho lo stesso dubbio anch'io io ce l'ho per un attaccante e probabilmente anche te e per un centrocampista non lo puoi ricordare non ti puoi ricordare quell'esatto anno devi provare a sparare se l'hanno vinta l'hanno vinta non l'ha vinta non l'ha vinta ovviamente tu ti riferivi al Milan quando parlavi di Crespo ci riferivi a quella finestra ovviamente chi non l'avesse capito ma era abbastanza no ma Crespo l'ha persa la finale facendo doppietta ne sa tanto di sì viabbiani non hanno giocato all'Inter sì ma l'hanno vinta la Champions League in serio ho capito non me lo ricordavo Verona ma l'ha vinta finisci con questo pareggio che tanto no no aspetta mo un'altro nome dovevo mettere quindi se non la sai ho vinto io no io non la so no però mi ho detto se stavamo a 0 0 a 0 alla quinta eh sì ho capito non è che poi te puoi stare a fare un'altra mezz'ora per due partite cioè te stai a rendere praticamente eh che te devo dire guarda io ti dico al massimo potevo fare un'altra sì al limite sì e se se non la so cioè se non riesco a pareggiare ciao ma va completamente a caso perché era l'Inter del 2010 pareggiamo per forza però voglio reveal eh voglio sapere col Bayern no oh mamma ce ne stanno 21 fa col Bayern ha vinto la Champions sì ma questo è uno degli altri ci stanno altri 20 ho capito ma oh al Parma eh possibile ce ne è venuto in mente uno eh no ultima e basta se pareggiamo ho vinto io perché siamo oltre la quinta partita esatto per portarla a devo vincere per forza vai ti vedo bello carico nelle scelte è strategia ovviamente raga però va ovviamente pure a svantaggio mio e direi direi eh e direi e direi e direi milan cominci te no devi fare skip non l'avevo visto però Flavio manchia vai mamma mia mamma mia rocinone udinese quando te dai la zappa sui piedi in una maniera pesante la tu sapevo io però eh lo so intanto metto qua che è proprio prosimo udinese bla 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 te l'ha venuto in mente me ne stalleva proprio mamma mia raga sto a sudà sto a sudà me ne stalleva proprio a dar nulla sto a sudà sta pagando la scelta che ho fatto ti mette Frosinone senti intanto qua no io ci avrei messo Cristian Zapata anche Iankulowski non è niente male beh sì però era facile dai obiettivamente adoravo Iankulowski ma Frosinone Udinese così intanto per sparare il nome parendi no come no beh no non ci ho manco mai provato a metter Udinese e Frosinone se lo indovini me la vado allora io mi arrendo il che significa che tu hai un'altra possibilità se lo indovini pareggiamo altrimenti ho vinto voglio fare i vill voglio fare i vill faccenda se trovo ovviamente per fare i vill sì 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 per forza Molinari no dieci ce ne erano non ti so ricordava ho pagato la mia scelta strategica di mettere squadre difficili perché alla fine sono riuscito nel mio intento di portarla e chiuderla sull'uno a zero per me la prossima penitenza deve pagare lui qui sotto nei commenti la più votata e fattibile sarà fatta grazie per la visione e alla prossima con un nuovo video ragazzi io rimango così non me la faccio l'altra parte di fare ciao ragazzi ciao rica